Ogni anno è sempre la stessa storia, ci troviamo circondati dall'erbacce, è una vera e propria selva. A dirlo sono i residenti della frazione di Cipolleto di Gubbio, che vivono lungo la strada dritta, la direttrice che congiunge Ponte d'Assi e Via della Piaggiola. La zona in cui viene segnalato un certo disagio è quella nei pressi della chiesa e del campo sportivo. Qui, complici anche le frequenti piogge e l'assenza di manutenzione del verde, la vegetazione cresce indisturbata, incontrollata e invade strada, panchine, marciapiedi e recinzioni, arrivando a ridosso delle case. Alcuni residenti preferiscono addirittura evitare di passarci perfino con i cani, per paura che possano fare incontri spiacevoli con qualche animale, tipo serpenti, zecchi o parassite simili, o che i forasacchi, presenti in gran numero lungo la sede stradale, possano finire in nasi, bocche e orecchie dei loro amici a quattro zampe, causando non pochi problemi. Va detto in generale che la strada è particolarmente frequentata dagli amanti del fitness e dai ciclisti, ma anche da pellegrini e camminatori, che soprattutto in questo periodo percorrono il sentiero francescano della pace. Un itinerario immerso nel verde, forse anche troppo, che potrebbe e dovrebbe essere maggiormente curato, a beneficio di chi vi risiede e di chi lo frequenta anche solo di passaggio.